benvenuti alla prova di ghost and goblin per mega drive è una demo ed è presente soltanto il primo livello manca l'audio e non ci sono ancora i nemici però possiamo vedere a che punto è arrivato il lavoro sino ad ora cominciamo si può utilizzare l'arma ci si può muovere e saltare beh direi che l'impatto è praticamente quasi perfetto la struttura del livello mi sembra che sia stata riprodotta in modo assolutamente fedele per il momento c'è solo questo certo su un mega drive un gioco così non dovrebbe essere difficile da convertire però questo non toglie che il lavoro è preciso vedremo se il progetto proseguirà e come verrà il prodotto finale vi ringrazio per la visione il video andrà avanti sino alla fine del livello vi ricordo che se siete interessati a homebrew hack mod demo per sega mega drive trovate all'interno del mio canale una playlist dedicata con i titoli in ordine alfabetico grazie grazie grazie